Aggiudicata la storica bandiera di San Pietro Vernotico ad Alfredo Epifani per 6.500 euro. Anche quest'anno come di consueto si è svolta la tradizionale asta della bandiera in gemellaggio con la comunità ellenica di Brindisi, Lecce e Taranto e con la presenza degli sbandieratori di Carovigno e la scuola di ballo San Pietrano a cuori danzanti. Dopo il corteo che ha attraversato la principale via Brindisi, lo spettacolo si è svolto in Piazza del Popolo per poi terminare con l'asta in Piazza San Pietro. Fate un applauso anche agli sbandieratori di Carovigno. Alfredo Epifani! Alfredo Epifani! Adesso dovete allontanarvi un attimo perché ci saranno gli affibuggieri che spareranno i loro colpi in onore della nostra bandiera che è stata aggiudicata da Alfredo Epifani. L'applauso! Spareranno i loro colpi in onore della bandiera. Spareranno gli affibuggieri che è iniziata! Un momento quello dell'assa della bandiera che annualmente tende ad unire il paese tra storia e tradizione, per rendere vivo il ricordo anche nelle nuove generazioni, affinché si trasmetti un forte messaggio di appartenenza. Grazie a tutti.